E' un piccolo dettaglio, il video è un po' lungo, bisogna togliere le immagini delle persone sconosciute, distraggono. No, ma quelli sono i fan di Alex, non li possiamo togliere, noi gliel'abbiamo promesso. Everything is possible, io rendo possibile l'impossibile. Voglio soltanto che sia il miglior video di Alex, ti do i migliori influencer di likes, Yandino e Catovi, ne devi approfittare. Sì, ma quelli sono i fan di Alex, tranquillo Mario, modalità aereo. Non dico di toglierli tutti, dico solo che nei top 3 ci vogliono loro due, i tuoi fan impazziranno. Sì ragazzi, è meglio che ascoltiate Marcos, sa molto bene di cosa parla, sai con likes perché vuoi crescere, no? Dobbiamo essere allineati e per farlo devi iniziare con un video vincente come quello di Carmine. Hanno postato l'ultimo Carmine Singh, non parlate.